Porto Duaro, stazione di Porto Duaro, Caio. Il treno regionale 5988 di Tremitalia, delle ore 14 e 41 per Casarza, è in partenza dal binario 4, firma in tutte le stazioni. T121 di Tremitalia, delle ore 14 e 23, proveniente da Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 2M, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.